nella roma dell'età monarchica il re governava la città comandava l'esercito ed era una guida religiosa egli tuttavia non agiva da solo perché secondo la tradizione romolo avrebbe dato vita a un consiglio di anziani il senato i membri del senato erano scelti tra le famiglie aristocratiche cioè quelle più importanti e ricche della città chi erano costoro in una società contadina e pastorale gli aristocratici erano i grandi proprietari terrieri o anche coloro che possedevano maggiori quantità di bestiame furono i capi delle grandi famiglie aristocratiche o gentes a costituire il senato essi venivano chiamati patres cioè padri un termine che va inteso nel senso proprio ma anche con il significato di persona di grande influenza e prestigio i discendenti dei patres furono chiamati patrici patrizi tutti gli altri cittadini piccoli proprietari terrieri braccianti pastori commercianti e artigiani formavano invece la plebe che era esclusa dal governo della città in età monarchica ma anche dopo la nascita della repubblica il governo della città fu di fatto in mano ai patrizi i soli ad avere una condizione economica che permetteva loro di dedicare una parte del proprio tempo agli affari pubblici ma non c'è solo questo rispetto ai plebei i patrizi detenevano un privilegio che può apparire piuttosto singolare o poco comprensibile dal nostro punto di vista erano gli unici a poter svolgere riti religiosi gli unici che potevano avvicinarsi all'altare del dio prevedere il futuro scrutando le viscere degli animali uccisi o interpretando il volo degli uccelli e questo aveva un'importanza cruciale nella cultura della roma arcaica perché tutte le iniziative pubbliche come per esempio una guerra o la fondazione di una nuova città erano precedute dall'accertamento del consenso degli dèi questo spiega perché la sfera religiosa a roma fu sempre strettamente connessa alla vita politica and that's all folks